ciao a tutti ragazzi ben ritrovati bentornati e se è la prima volta benvenuti nel canale di milan insight oggi ragazzi analisi più pagelle di milan inter 0 a 0 di coppa italia prima di cominciare però ragazzi vi ricordo gentilmente di lasciare un like al video più o meno qua sotto iscrivetevi al canale invece di qui attivate la campanellina in descrizione tutti i link dei profili social di milan insight il mio personale di instagram e il sito internet www.acmilaninside.com allora ragazzi derby di coppa italia di andata terminato 0 a 0 dove io cerco di essere sempre molto obiettivo e lineare nelle analisi e così come l'altra volta dissi al derby di ritorno che fondamentalmente l'inter aveva fatto meglio oggi dico che in milan è stato in milan a giocare meglio a creare di più a tenere meglio il campo a tenere di più il possesso a limitare l'inter che è difficile perché comunque sia è una grande squadra però io sinceramente non ricordo parata di megnon sinceramente ricordo qualche occasione potenziale è tipo quella di dico con zabbataggio di calulu nel secondo tempo ma non tramutatosi in niente convice grande intervento di calulu un derby che vedrà per l'ultima volta valevoli la regola dei gol in trasferta che quindi potrebbe essere un piccolissimo vantaggio per noi a ritorno però se ieri avessimo fatto almeno un golletto una vittoria per un a 0 sarebbe stato molto molto meglio nel complesso bene episodio dubbio quello di screener su girù fatico a credere che quello non sia rigore sinceramente una cintura di sicurezza quella di screener di contro di girù vabbè l'arbitraggio è stato un po' discutibile sinceramente ma comunque concentriamoci sulle cose effettive reali e con l'appuntamento poi della partita di ritorno dove sarà importantissimo segnare perché ripeto sarà ancora valevole per l'ultima volta la regola del gol in trasferta e quindi potrebbe essere un piccolo vantaggio per noi detto questo passiamo alle pagelle megnon voto 6 un 6 politico perché come detto poco fa io non ricordo parate di megnon potrebbe scapparmi qualcosa ma sicuramente non c'è niente di niente di emblematico niente di grandissimo da segnalare tipo il derby di campionato la cosa più importante per cui si è vista megnon è per il fallo di lautaro che ha fatto tremare tutti tutti i tifosi rossomeli perché era interessato il polso che è stato operato però se dobbiamo sottolineare proprio una cosa di megnon è che nel primo tempo in un'azione di ripartenza cosa per lui stranissima sbaglia il lancio leao era tutto libero sulla sinistra lui lo butta centrale ma insomma è proprio per dire un qualcosa di megnon voto 6 florenzi grandissima partita di alessandro veramente grande partita di alessandro florenzi io gli do io gli do 7 per i sicili sfugge solo una volta praticamente nel primo tempo e una nel secondo per il resto lo argina benissimo pur in fase offensiva sempre presente qualche lancio a scavalcare la difesa dell'inder preciso veramente in fase difensiva attento ripeto per i sicili sfugge solo una volta nel primo tempo e una volta nel secondo per i sicili di solito dell'inder rientra è sempre uno dei migliori tre in campo ieri non pervenuto e questo è per il grande merito di florenzi Tomori partita bellissima anche per lui voto 7 anche per lui che sia Dzeko che sia Lautaro nei confronti di Lautaro con il fisico nei confronti di Dzeko con la velocità vince questi ballottaggi così e mi riporto a quando la partita con la Salernitana dissi Tomori se non riesci a giocare contro Giuric perché è due metri la palla l'aveva di togli in qualche altra maniera e questo è quanto l'ha fatto ieri con Giurico molto molto bene Romagnoli prima e Calulu poi facciamo prima i titolari poi facciamo i panchinari Romagnoli sei e mezzo quel mezzo punto in view solo per il salvataggio che ha fatto nel primo tempo con il colpo di testa su Giurico e non era facile lì proprio in quell'occasione si infortunia valuteremo l'entità del problema che dovrebbe essere un risentimento muscolare ma insomma vediamo per Napoli non dovrebbe farci ma con un Calulu così stiamo tranquilli Hernandez fatico a dargli un'insufficienza fa anche qualche sgroppa sei e mezzo sei e mezzo perché a differenza del derby di campionato dove ci saranno parecchi confronti paragoni con i derby di campionato perché? perché è l'ultima partita più fresca rispetto a quella partita dove aveva subito parecchio Dumfries ieri invece ha fatto lui soffrire l'olandese con sgroppate alcune con falli chiari non puniti dall'arbitro attendo in fase difensiva ha un'occasione nel primo tempo che purtroppo gli capita sul destro perché se fosse capitato sul silistro insomma sarebbe stato molto più invitato io mi aspettavo andasse di esterno sinistro sinceramente lì mi aspettavo andasse di esterno invece è andato col destro vabbè comunque Ben Nasser partita a campo forse oserei dire la migliore partita di Ben Nasser con la maglia del Milan voto 7 e mezzo per Ben Nasser non ha sbagliato niente se imparasse solo ad essere più preciso più tagliente e più puntuale con i lanci lunghi diventerebbe veramente veramente importante come centrocampista ieri ha guadagnato una quantità impressionante di palloni di falli poi quando si tratta del lancio lungo purtroppo non voglio dire che deve avere il lancio di Pirlo però lo deve migliorare che sì voto 6 meno appariscente meno presente non non fa le prestazioni negative dell'ultimo periodo leggermente meglio e dobbiamo dire che fondamentalmente l'assenza di Tonali ieri si è sentita poco anche grazie a lui soprattutto per Ben Nasser ma anche grazie a Livoria passiamo alla tre quarti non so se partire da destra o partire da sinistra vabbè finora ci sono stati parecchi voti positivi partiamo da destra Sene Makers voto 5 e mezzo si sbatte sembra essere veramente ripetitivo il voto e l'analisi della prestazione di Sene Makers volitivo presente funambolico tutto quello che volete quando si tratta di essere qualitativamente importanti toppa tutte le scelte che sia il cross me ne ricordo un paio nel primo tempo cioè l'ala a destra nasce per fare i cross se tu non sai fare i cross ragazzo mio ti devi allenare devi migliorare l'occasione del primo tempo col sinistro vabbè dicerà devo attirare subito la col sinistro di me sia se sinceramente ci saremmo divertiti un po' di più secondo tempo è l'occasione di destra non di destro non mi puoi cercare il primo palo perché è normale che ti vanno ad occupare tutti quello cioè il secondo palo che è sguarnito deve migliorare lì deve migliorare lì dove conta con assist e gol perché alla lunga potrebbe essere solo un buon Borini un Borini un buon meglio riuscito nel senso tanto sacrificio tanta corsa tanta volontà però se tu non segni e non fai assist non puoi giocare in quella posizione lì Krunic solita prestazione di Rade non risulterà mai tra i migliori non risulterà mai tra i peggiori come trequartista pecca di qualità e lo si vede nel primo tempo dove lo stop nel calcio è tutto e lui sbagliando con lo stop perde l'occasione per tirare gli manca anche un po' di istinto Gile perché nel secondo tempo quando c'è l'occasione di Leao con la parata di Andano che rimane lì nasce da un suo passaggio non previsto nel senso lì una punta un trequartista come si deve tira lui invece preferisce allargare comunque 6 per Krunic ho detto 5 e mezzo per Semakers e 6 per Krunic Leao 6 e mezzo primo tempo sembrava tanto confusionario sembrava una di quelle partite dove non gli riesce niente però mette in apprezzione sempre la difesa dell'Inter e Skriniar sa che in velocità Leao lo salta sa che nell'uno contro uno lo perde e retrava sempre poi Correbic ha cambiato modo di giocare perché un altro tipo di giocatore in un momento di forma completamente opposto rispetto a Leao però 6 e mezzo per il portoghese Giroud 5 e mezzo partita molto simile a quella di campionato bisogna essere onesti nel senso anzi forse ieri ha toccato pure più palloni rispetto al derby di campionato però lì aveva fatto due gol e ieri niente non mi ricordo mai che abbia avuto l'opportunità pulita per tirare sinceramente un paio di sponde molto buone tipo quella di Seremachese nel secondo tempo poi c'è un'altra occasione nel secondo tempo dove lui se tira di destro potrebbe impenserire purtroppo il destro lo usa solo per correre e quindi perde poi cingischia un po' e roba varia 5 e mezzo per lui per quanto riguarda i subentrati Kalulu 7 partita strepitosa sottotaggio meraviglioso nel secondo tempo ma nel complesso veramente attento preciso puntuale molto Tomori style sì Calabria senza voto perché entra agli ultimi minuti e poi Rebic Brahim Messias allora mi dispiace però Rebic 5 molto in linea con le ultime partite Salerno l'ha salvato solo il gol sinceramente sbagliato tutto 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 5 scusate Brahim Diaz un po' più frizzante un po' più brillante un po' tipo campionato quando era entrato ed era stato la sua frizzantenza la sua vivacità avevano dato un po' di verba avevano dato in là recupero ieri un po' meno incisivo sotto porta però perlomeno non ha perso tutti quei palloni del periodo negativo che purtroppo ormai lo sta contrastinguendo voto 6 per lui Messias 5 e mezzo mi dispiace non riesce praticamente mai a punta l'uomo e quando lo punta bastoni lo blocca sinceramente ha un'occasione dove il sinistro non gira nel secondo tempo però lì secondo me in estate serve qualcosa tra Selemachers Messias Castiglieco purtroppo chi metti metti non dà quel qualcosa in più serve qualcosa lì Noah Lang vedremo questo è quando ragazzi per quanto riguarda il mister io gli darei un 6 e mezzo ha forse imparato la lezione del derby di ritorno gestisce meglio mettendo crunice non che si trequartista sia per la squalifica di tonali ma anche perché crunice è più abituato a fare trequartista rispetto a che si mi dovrebbe forse scendo un po' a 6 mi dovrebbe solo spiegare perché leao sembra essere uscita la legge che leao non può fare 90 minuti cioè secondo me leao deve stare in campo sempre ho capito che essendo quello che punta di più è anche quello che probabilmente spende di più in termini di energie però secondo me può sempre inventarsi la giocata e deve rimanere in campo vuoi mettere Ebbic perché lo vuoi mettere mettilo a destra mettilo appunto a posto di giro maleao deve rimanere in campo e infatti il portoghese sembra essersela presa un po' azzeccatissima la scelta di florenzi va bene dai sei e mezzo per più questo è quanto ragazzi io vi ringrazio vi saluto vi ricordo gentilmente like iscrizione campanellina tutti i profili social il sito internet e chi più ne ha più ne mette rimanete aggiornati su tutte le vagini di mine in sale perché ci saranno grandi novità interviste live per rubavare vi ringrazio ancora una volta e sempre Forza Milan